Ciao Italia! Guardate che pubblico caloroso che c'è via l'Aquila! Presentati all'Italia! Chi sei? E che iniziativa è questa? Dillo! Sima Cooperillo del Consorzio NCO e questa è l'iniziativa natalizia. Il pacco alla camorra, tutti i prodotti... Venenti dai terreni confiscati alla camorra. Perfetto! Allora tutti noi insieme al mio 3 facciamo il pacco alla camorra! Aspetta questa era una prova! Al mio 3, 1, 2 e 3! Facciamo il pacco alla camorra! Grande! Municipale. SiamoIi! Grazie a tutti.